Ben ritrovati, ben ritrovato il popolo bianco-rosso, ben ritrovato Guido. Intervista pre-match partita Barletta-Martina Calcio, valida per la quindicesima giornata del girone H Serie D. Domenica 10 dicembre ore 14.30, match che ricordo si disputerà a porte chiuse. Prego con le domande. Marilungo, buongiorno. Si riparte da un bel pareggio contro il Casarano, due sconfitte. Qual è l'ambiente che si respira e soprattutto il pareggio ha dato vigore al gruppo Barletta-Calcio? Buongiorno a tutti. Si riparte da un buon punto a Casarano che sicuramente dopo due sconfitte prendere un punto a Casarano dà sicuramente morale. un po' diciamo anche lo spirito e la fiducia dei ragazzi, della squadra di noi si alza e quindi partiamo da questo punto per affrontare la partita di domani con grande voglia e grande entusiasmo. Inutile negarlo in questo filetto di partita abbiamo incontrato le squadre più forti però è vero che abbiamo anche rimodulato l'assetto tattico. C'è più consapevolezza in voi anche in virtù del pareggio di Casarano per cui sarà domani una partita in cui si potranno vedere delle migliorie sicuramente. Speriamo. Noi comunque sia risultati a parte dobbiamo avere sempre fiducia e consapevolezza in noi stessi. E' ovvio che poi i risultati e vittorie aumentano questa cosa però dobbiamo solo pensare a migliorarci e a lavorare sul campo a cercare di fare quello che il mister ci chiede nel migliore dei modi. E adesso arriva il Martina che sicuramente avete studiato e approfondito. Martina peraltro con l'ex Pizzulli che proprio nella stagione scorsa è venuto a fare qui e portare via i tre punti. Come sta la squadra fisicamente? No, la squadra siamo bene, ci siamo allenati bene questa settimana. Vediamo, sarà una partita difficile, lo sappiamo. Loro sono sopra di noi in classifica, vuol dire che fino ad oggi hanno fatto un po' meglio ma domani sarà un'altra partita e cercheremo di fare il massimo e fare più punti possibili. Alla difficoltà delle squadre che il Barletta sta incontrando in questo filotto di partite domenica si aggiunge anche la partita a porte chiuse. Per un Barletta che è sempre volato sulle ali del pubblico, dell'entusiasmo come si affronta questa partita? Come si affronta? Si affronta con un po' di amarezza, un po' di tristezza perché avere lo stadio pieno come sempre qua a Barletta perché vengono sempre in tanti tifosi è una cosa bella. Purtroppo domani non sarà così e speriamo che sia l'ultima volta perché vogliamo riaverli il più prezzo possibile a incitarci e a darci una mano. Perfetto, grazie a tutti.